No, due sono uguali, due matri, due giocchi, due giocchi sono uguali, le cartelle diverse. Sono uguali, non tenete la carta, ma non tenete la carta di farvi, non tenete la carta di farvi. È tutto la carta di farvi, non ha messo la carta. Eh, c'è una... guardate anche quel che lì, eh, eh, che piacere. Allora, la tua carta sarebbe un po' anche fatta, giusto? Cioè, speriamo. Cosa c'è? Fai avanti che non l'ho vista. Fai avanti che non l'ho vista. Allora, io provo una carta. Adesso, vai qua, giusto? La mia è nel senso di quadri? No. Un po' così intendi. Vicino come seme, vicino come... Tu dimmi da dove la tiri fuori. Tu prima mi dici da dove la tiri fuori. E dopo io ti dico dov'è, qual'è? Dai, dimmi. No, lo so perché... Vabbè, ti volete che non l'hai qui. Fai in culo. Scusami il francese. Scusami il francese. Parolazzo, mettiamo pip, pip. Perchè... 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 Perchè...